Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere come eseguire il jailbreak su iOS 14 grazie ad Uncover. In particolare questa è la procedura che non richiede l'utilizzo di un computer perché andremo a fare tutto direttamente sul nostro iDevice. Questo vuole essere un video molto veloce perciò non ci soffermeremo su tutti i vari dettagli di questo jailbreak perché ve ne avevo già parlato più approfonditamente nel video di settimana scorsa. Perciò se siete interessati o se ve lo siete perso ve lo lascio linkato qua nelle i in alto. Bene ma detto questo tutto quello che vi basta sapere è che questo jailbreak è compatibile con qualsiasi modello di iPhone, iPad o iPod Touch in grado di eseguire iOS o iPadOS 14 e le versioni di iOS 14 supportate sono quelle che vanno dalla 14.0 fino alla 14.3. Per controllare se avete installato una versione di iOS compatibile vi basta andare nelle impostazioni del vostro dispositivo qua in basso su Generali, su Info e ora in questa sezione troverete una voce chiamata Versione Software. Qui appunto dovete controllare che abbiate una versione compresa tra quelle che vi ho appena detto. Se è compatibile come nel mio caso 14.1 bene potete fare questo jailbreak se avete una qualsiasi versione successiva come 14.4 o 14.5 beh purtroppo al momento non potete eseguire questo jailbreak. Inoltre sempre sulle impostazioni un'altra cosa che dobbiamo controllare si trova nella schermata precedente qua nella sezione Spazio iPhone dobbiamo controllare che all'interno di questa lista non sia presente una voce dell'aggiornamento software di iOS. Dovrebbe chiamarsi qualcosa tipo iOS 14.4 o iOS 14.5 perciò se la trovate ci cliccate sopra e andate a rimuoverla. Io nel mio caso vedete che non ce l'ho proprio perciò sono già a posto così. Bene direi che possiamo passare subito ad installare Uncover per farlo andremo ad utilizzare uno store di terze parti io andrò ad utilizzare Upvalley ma qua sotto in descrizione vi lascio diversi link di altri store che sono comunque affidabili come per esempio Tutobox o Eonhub. Tutti questi store ovviamente devono essere aperti su Safari quindi andiamo ad aprire il nostro browser e per quanto riguarda Upvalley il link è questo qua lo avevo già copiato quindi vado subito ad incollarlo e ad aprirlo. Ora vedrete che su questi siti c'è diversa pubblicità perciò abbiate un attimo pazienza per far stare in piedi questi store serve un po' di pubblicità perciò è così. Ora andiamo a cercare Uncover dovremo trovarlo qua nella sezione degli aggiornamenti ok vedete se vi apre delle nuove schede dovete andarle a chiudere perché vi ripeto è solo pubblicità. proviamo a cliccare di nuovo su Updates e ora se chiudiamo questi altri banner ok vedete che troviamo anche l'icona di Uncover a noi interessa proprio la versione 6 che è quella compatibile con iOS 14 vedete c'è scritto V6 iOS 14.3 ci clicchiamo sopra di nuovo questa pubblicità ora vi ripeto non fate caso quello che vi apparirà su queste pagine perché se vi dice che avete vinto un iPhone se vi dice che avete 200 virus nel vostro iPhone ovviamente è tutta roba fake ok in questo caso in realtà ci bastava andare a cliccare sul bottone Get perciò clicchiamo nuovamente su Get e ora dovrebbe apparirci questo pop-up questo è il pop-up corretto quello per l'installazione quindi andiamo a cliccare qua su Conferma e ora se torniamo sulla nostra home screen dovrebbe apparirci l'applicazione che si sta scaricando vi ricordo che questi store non è sempre detto che siano funzionanti infatti in alcuni casi l'installazione potrebbe non andare a buon termine per esempio potrebbe bloccarsi qua con l'icona grigia potrebbe apparirvi un pop-up che vi dice che l'installazione è fallita in quel caso semplicemente dovete aspettare e riprovare a scaricarlo più tardi tra qualche ora o tra qualche giorno diciamo che potete provare a riscaricarlo anche 50 volte lo stesso giorno ma se siete sfortunati potreste proprio non riuscirlo a scaricare perciò per non dover provare mille volte inutilmente quello che vi consiglio di fare è andare a guardare le pagine social di questi store per esempio per App Valley vi faccio vedere che hanno questa pagina su Twitter e se vedete qua pubblicano un post ogni volta che questi store tornano funzionanti per esempio vedete che giusto 16 ore fa avevano fatto il resign delle applicazioni ed è proprio per questo motivo che a me ha funzionato se vedete che loro hanno appena scritto che lo store è stato revocato vuol dire che in quel momento non potete andare a scaricare le loro app perciò se avete problemi davvero vi consiglio di dargli un'occhiata a me è andato tutto bene perciò prima di poter aprire questa applicazione dobbiamo tornare sulle impostazioni questa volta andiamo su generali e su gestione dispositivo o profili andiamo qui a cliccare sulla nuova voce e andiamo a dare l'autorizzazione ok confermiamo e ora dovremo poter aprire Uncover tranquillamente fare il jailbreak è davvero semplicissimo perché ci basta cliccare su questo bottone blu con la scritta jailbreak e aspettare potrebbero volerci più tentativi prima che riusciate a fare il jailbreak correttamente perciò se vedete che al primo tentativo avviesce qualche errore e non vi appare esidia non preoccupatevi perché è abbastanza normale a me infatti sembra proprio che si sia bloccata l'applicazione di Uncover perciò possiamo provare a fare una cosa di questo tipo andiamo a chiuderla anche dal multitasking e riproviamo ad eseguire il jailbreak vediamo adesso se succede qualcosa bene dopo qualche minuto ce l'abbiamo fatta ora ci apparirà questa pagina per le donazioni tramite questi due bottoni potete andare a fare una donazione al team di Uncover se volete sembra che questa volta sia andato tutto correttamente perciò possiamo cliccare su ok e ora verrà riavviato il nostro iPhone è normale perciò aspettiamo qualche secondo andiamo a sbloccarlo se ce l'abbiamo dobbiamo mettere il nostro codice ora vedete che l'icona di esidia non sarà ancora comparsa perché questo jailbreak richiede due passaggi ovvero dobbiamo tornare a riaprire l'applicazione di Uncover e dobbiamo cliccare nuovamente su jailbreak molto bene ci siamo quasi andiamo a chiudere questa schermata ci dice che non c'è stato alcun errore perciò possiamo cliccare su ok e giusto per qualche secondo abbiamo già visto sidia sulla nostra home screen quindi effettivamente ci siamo aspettiamo il respring andiamo a sbloccare il nostro iPhone ed ecco qua le due icone del nostro jailbreak substitute sarebbe il componente che serve per far funzionare i vari tweak perciò vi consiglio di tenerlo comunque sulla vostra home screen mentre sidia effettivamente il gestore dei pacchetti che potete usare per aggiungere repo e scaricare i vostri tweak al primo avvio vi conviene sempre aspettare che scompaia qua in basso questo piccolo cerchiolino del caricamento a me l'ha già fatto quindi vedete che troviamo tutte le nostre repo e se andiamo su novità troviamo tutti i vari pacchetti pronti per l'installazione quindi il jailbreak è stato eseguito correttamente perciò direi che per il video di oggi era tutto l'ultimissima cosa che voglio ricordarvi è che ogni volta che andrete a riavviare il vostro iPhone perché lo fate manualmente o anche se vi si scarica la batteria dovrete andare a riattivare il jailbreak sempre con l'applicazione di Uncover la procedura per riattivare il jailbreak sarà molto ma molto più veloce rispetto a quella per l'installazione perciò non preoccupatevi non è assolutamente nulla di troppo complicato con questa procedura l'applicazione di Uncover ogni tanto potrebbe venire revocata quindi anche qui potreste doverla riscaricare più volte da App Valley oppure dagli altri store bene direi che questo era tutto quello che c'era da sapere spero che il video di oggi vi sia piaciuto e vi sia stato utile in tal caso vi invito a lasciare un bel like e se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale noi come al solito ci rivediamo alla prossima e ciao a tutti iscriviti al canale